Clicca su abbonati per passare a Redhawk Gold e vedere tutti i video futuri del canale in anteprima e senza pubblicità. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Marra e questo è Redhawk. Grande richiesta dopo esserci concentrati più precisamente su Dragon Ball in generale. Oggi diciamo che cambiamo un pochettino la visione delle cose, ci concentriamo solo ed esclusivamente su Dragon Ball Super. Difatti questa è la top 10 migliori momenti in Dragon Ball Super. Una top che come sempre, quando ci sono delle top che raccontano dei momenti migliori, è un po' personale per certi punti di vista. Quindi come sempre ragazzi io vi chiedo di commentare perché sono proprio curioso di sapere la vostra opinione sull'argomento. Prima di cominciare vi ricordo che questo canale è sostenuto dal nostro store, io vi lascio il link in descrizione del primo commento e che potete anche utilizzare il codice sconto YouTube per avere il 10% di sconto su ogni vostro acquisto utilizzabile una volta al mese. Io direi che possiamo partire subito e partiamo con la decima posizione. In decima posizione ho voluto inserire Goku che utilizza per la prima volta il Kaioken contro Hit. Perché questo momento l'ho voluto inserire in classifica? Perché effettivamente la tecnica del Kaioken, che è una tecnica assolutamente iconica in Dragon Ball, soprattutto in Dragon Ball Z quando si vede, è un qualcosa di importante per i fan. Poi ovviamente viene persa ed è proprio questo il motivo per cui questa scena qui secondo me è importante. Perché in Dragon Ball Super abbiamo questo ritorno alle origini per certe cose. In particolare Goku che utilizza il Kaioken è uno degli esempi lampanti di questo ritorno alle origini. Di utilizzare una mossa iconica che ha utilizzato alla fine poco, anche se comunque è leggendaria, per me è una cosa molto molto figa. Che in più secondo me si va a legare un pochettino con la storia che stanno prendendo in questo momento, ovvero di legare le tecniche alle trasformazioni. Per esempio l'ultraistinto ormai non è più considerabile una trasformazione ma una tecnica. E Goku nell'ultima saga utilizza l'ultraistinto con le altre trasformazioni Super Saiyan. Che è una roba fighissima secondo me e che parte proprio da questa scena qui. In generale di vedere Kaioken per noi fan è una cosa assolutamente bella, almeno per me. Io sono proprio felice di averla rivista, però ovviamente non è un momento super epico e quindi merita per adesso solo la decima posizione. In nona posizione invece ho voluto inserire una scena incredibilmente recente, forse la più recente che vedrete in questa classifica, che è la trasformazione di Gohan Beast. In realtà questa trasformazione per ora appartiene solo ed esclusivamente al film Dragon Ball Super Super Heroes, ma comunque in questo momento sta uscendo proprio la saga del manga dedicata a Dragon Ball Super Super Heroes. E sicuramente rivedremo questa forma anche nel manga, quindi comunque l'ho voluta inserire. Comunque teniamo come riferimento solo ed esclusivamente la scena cinematografica. E comunque l'ho voluta tenere così in basso, nonostante per me si merita anche una posizione un po' più alta, perché è abbastanza nuova, quindi deve essere ancora apprezzata. E in più comunque non abbiamo, come ho detto, la versione manga, quindi non posso giudicarla al 100%. Detto questo, far tornare in carreggiato un personaggio come Gohan, che per me è sempre stato il vero protagonista di Dragon Ball, è una cosa super importante, in più questa trasformazione qui è oggettivamente molto molto figa. Io sono comunque un fan del film Dragon Ball Super Super Hero, per me quel film lì è Dragon Ball. E Dragon Ball è esagerato, perché ormai siamo in un'era in cui Dragon Ball Super ha raggiunto livelli assurdi per quanto riguarda la potenza, però quel film lì rappresenta quello che per me dovrebbe essere Dragon Ball, anche se non ha Goku, quindi per me è una genialata. Comunque sia, Gohan si merita la nona posizione, quando vedremo la versione del manga magari potremmo anche giudicarla meglio e magari giudicarla anche qualche gradino un po' più in alto. In ottava posizione invece ho voluto inserire lo scontro Vegito contro Zamasu, perché è la prima apparizione effettivamente di Vegito in Dragon Ball Super. Questo personaggio in realtà canonicamente lo vediamo solo una volta, che nella saga di Buu poi in realtà viene dimenticato, come succede con tutte le fusioni che sono famose solo per i fan made, ma in realtà alla fine all'interno del manga vengono viste per pochissimo tempo. Comunque è uno scontro veramente veramente epocale, se non durasse così poco probabilmente sarebbe anche in qualche posizione più in alto, devo dire. Comunque questa trasformazione avviene, come potete immaginare, dai Potara e soprattutto dalla fusione tra Goku e Vegeta. Finalmente i due fusi riescono a tenere testa al Zamasu fuso, che era diventato una calamità fin troppo pericolosa per il team del futuro. Anche qui per me questa trasformazione, anzi questo momento in generale è un po' un riferimento al passato, un riferimento a Dragon Ball Z. Io infatti sono felicissimo di averla vista, anche qui dura un po' poco. E poi come al solito in Dragon Ball le questioni non vengono mai risolte con la tecnica più forte, che nel caso di questa saga era palesemente la fusione tra i due, ma poi venne risolta da Trunks. Ma vi anticipo che potremmo parlarne tra poco. Comunque sia, in settima posizione abbiamo Vegeta contro Black Goku. Allora, in questo è un momento cui, secondo me, abbiamo proprio la dimostrazione di come Vegeta porta rispetto a Goku. Di fatti, Zamasu, nonostante abbia rubato il corpo di Goku, nonostante abbia comunque sbloccato il Super Saiyan God Super Saiyan, che nella sua forma rappresenta appunto la forma Rosé, non riesce ad avere la meglio contro un personaggio, un guerriero come Vegeta. Che gli dice semplicemente che tu puoi anche aver rubato il corpo di Goku, ma non hai la sua esperienza nel combattimento. Lui è così forte perché si è forgiato in anni e anni di battaglie, dopo centinaia e centinaia di battaglie lui è così forte. Tu non hai la sua esperienza. Comunque, i schiaffi che prende Zamasu in questa scena, secondo me, valgono alla grande la sesta posizione. Comunque sia, questo momento per me è molto molto figo per due motivi. Intanto l'epicità che raggiunge Vegeta in quel momento lì e anche l'incredulità di Zamasu in questa occasione. Che comunque, per un dio, letteralmente, che tra l'altro vuole conquistare tutto l'universo, anzi tutto il multiverso nel caso di Dragon Ball, veramente è una scena da brividi quasi. E in sesta posizione ho voluto inserire anche qui una scena abbastanza recente, che è Vegeta che raggiunge l'Ultra Ego. Questa è una scena molto molto figa per quanto mi riguarda. Qua abbiamo il contrario del discorso che abbiamo fatto per Gohan Beast, perché questa scena qui è nel manga, ma non è nell'anime o non è in nessun film, quindi semplicemente non ce l'abbiamo ancora animata. Per questo motivo, infatti, non esistono action figures originali di Vegeta Ultra Ego, ma questa è una cosa che mi interessa a me per il negozio, ma anche come collezionista è una cosa che mi fa un po' rosicare. Però c'è da dire che questa trasformazione per me è veramente molto molto figa e comunque ha rotto il web, anche se per pochi giorni, perché stiamo parlando, ragazzi, di una trasformazione di Vegeta. E in più questa trasformazione con i capelli blu che gli toglie i sopraccigli, ovviamente quest'ultima cosa molti l'hanno collegata al Super Saiyan 3 che è una trasformazione che Vegeta purtroppo non raggiunge mai, anzi per fortuna perché io non sono un grande fan di questa trasformazione. Comunque sia, se noi calcoliamo il momento in cui Vegeta si trasforma davanti a Granola, quando stava per averla meglio, contando poi la rivelazione delle tecniche che si porta dietro a questa trasformazione, come per esempio il potenziarsi mentre si prendono dei colpi, questo momento è veramente assurdo. Poi credo che sia una delle trasformazioni a livello di design più fighe in assoluto, in cui non è che cambiano solo i capelli, cambiano anche i sopraccigli, ma poi c'è questo orecchino che come molti di voi mi sottolineano, non è che compare con la trasformazione, ma gliel'ha donato Beerus per aver ottenuto, diciamo, l'ultraego. Per me questo è uno dei momenti top di Dragon Ball Super in assoluto, anche se anche qui è abbastanza recente. In quinta posizione invece ho voluto inserire Future Trunks che finalmente sconfigge Zamasu. Allora, stiamo mettendo un pochettino di volte questa saga qui all'interno di questa classifica, ma ci sta perché questa saga è veramente costellata di momenti epici. Detto questo, ragazzi, Trunks finalmente fa il suo ritorno in Dragon Ball Super, l'aveva già fatto all'inizio di questa saga, ma lo fa in grande stile. Lo fa utilizzando questa nuova trasformazione del Super Saiyan, anche questo Super Saiyan Rage di cui non sappiamo veramente niente, difatti non ne parleremo più di tanto anche in questo video, però la cosa veramente figa è la tecnica che utilizza per sconfiggere Zamasu. Cioè, riesce a utilizzare una specie di sfera di Genkidama, però con la sua spada, ok? E questa lama letteralmente riesce a tagliare Zamasu fuso. Vabbè, è una scena misteriosa, ok? Ma non è che non dobbiamo parlare più di tanto, perché sappiamo come funziona Dragon Ball. Detto questo, è una scena molto molto figa che rende di giustizia Trunks. C'è da dire che l'unica saga in cui effettivamente questo personaggio compare, che è nella saga di Cell, lui non è che finisce l'Androide, lo finisce Gohan. In questo caso qui, invece, i riflettori sono puntati su di lui, che è una cosa, secondo me, giusta e ci sta. Detto questo, merita solo la quinta posizione, perché sopra, secondo me, ci sono dei momenti un po' più iconici, e poi questa saga qui l'abbiamo veramente sviscerata in questa classifica. Difatti, in quarta posizione, finalmente, troviamo una scena del Torneo del Potere. Ho voluto inserire Goku che elimina Kefla. Allora, io qui veramente voglio fare l'anti... l'anti-manga per eccellenza. Cioè, secondo me, questa scena qua è meglio nell'anime, perché è veramente molto molto figa. Comunque, a livello di combattimento, questo è un combattimento fighissimo. È la seconda volta in cui Goku raggiunge l'ultraestinto, anche se non stiamo ancora parlando dell'ultraestinto completo. In questa scena qui, Goku riesce a evitare tutti i colpi di Kefla per riuscire a scagliare una Kamehameha incredibile e incredibilmente forte al suo avversario, che la scaramenta fuori dal ring. Certo, è una cosa che potrebbe essere stata risolta, per esempio, dalla Kamehameha con la trasmissione istantanea. Quindi, non so se vi ricordate, nella saga di Selle, in Dragon Ball Z, Goku prima di scagliare la Kamehameha, mentre la carica, appena prima di lanciarla, si teletrasporta a fianco a Selle per fargli un danno incredibile. Poteva farlo anche in questa occasione? Assolutamente sì, ma non avremmo avuto questa scena super epica. E comunque, questa Kamehameha lanciata, mentre Goku letteralmente scivola, ma questa è la figata di questa scena, mentre scivola sull'attacco di Kefla, beh, cioè, rende sta scena una cosa incredibile per quanto mi riguarda, che però non merita il podio, merita solo la quarta posizione. In terza posizione, invece, ho voluto inserire il rematch tra Goku e Jiren. Quindi stiamo parlando nuovamente del torneo del potere, stiamo parlando praticamente della parte finale. Stiamo parlando del momento in cui Goku raggiunge l'ultraestinto completo. Solo in terza posizione, perché secondo me c'è qualcosa di meglio, però c'è da dire che questa scena veramente è da brividi. Praticamente sono rimasti solo loro due, anche se in realtà nel ring li stanno lì tranquilli a farsi fatti loro, anche Freezer e C-17 soprattutto, che poi sarà il vincitore. Però comunque questo combattimento è incredibile. Vediamo che nonostante l'ultraestinto sia praticamente la privazione di rabbia per quanto riguarda Goku, in quest'occasione qui si arrabbia. Quindi sì, secondo me è una scena proprio degna dei Saiyan in generale, ma è una scena molto molto figa, perché è anche l'unico momento in cui effettivamente vediamo Jiren dare il meglio. Poi vabbè, proprio nel momento in cui compare per la prima volta Goku con l'ultraestinto completo, quella scena lì, cioè ragazzi cosa dobbiamo dire di quella scena lì? Veramente da brividi. È un combattimento fighissimo, è uno dei combattimenti migliori secondo me in tutto Dragon Ball. In seconda posizione ho voluto inserire anche qui uno scontro che si vede perlopiù in un film. Sto parlando di Gogeta vs Broly. Qui ragazzi non potevo non inserire questo scontro in questa classifica, perché ragazzi stiamo parlando di due cose assolutamente iconiche di Dragon Ball, soprattutto dei vecchi film di Dragon Ball, mischiate insieme. Stiamo parlando di Gogeta e di Broly. Difatti per chi non lo sapesse, Gogeta, tralasciando ovviamente Dragon Ball GT, compare solo ed esclusivamente all'interno di un film di Dragon Ball Z, quindi non è canonico. Quindi teoricamente in Dragon Ball Super Gogeta non era ancora mai esistito. La stessa cosa vale per Broly, perché Broly compare in un film di Dragon Ball Z, anzi in diversi film di Dragon Ball Z, ma Broly non è canonico. Diventa canonico in Dragon Ball Super, in questa versione qua, che come ho detto più volte in diversi video, io addirittura preferisco quella di Dragon Ball Z. Anche perché è una versione che riesce a essere riportata, ma non come le versioni di Dragon Ball Z in cui doveva ritornare semplicemente resuscitando come nuovo villain del nuovo film. No. Qua Broly ritorna e diventa praticamente un personaggio che probabilmente vedremo anche il futuro molto molto spesso. Comunque, concentrandoci su questa scena, vabbè, il combattimento è assurdo. Cioè, ovviamente Broly non ha nulla a che vedere contro Gogeta, soprattutto contro Gogeta, Super Saiyan, God, Super Saiyan, perché è veramente troppo troppo forte per lui. Ma comunque Broly ha dato spettacolo un po' prima e questo è il momento principale di Gogeta. Cioè diciamo che questo momento qua l'ho voluto inserire così in alto proprio per lui, perché veramente rompe quasi l'universo con questo combattimento e rischia di uccidere Broly se non venisse teletrasportato grazie alle Sferre del Drago. Cioè, uno scontro incredibile che io ogni tanto vado su YouTube e me lo riguardo perché è figo. Cioè, se tu sei un fan di Dragon Ball, non puoi non ammirare questo scontro qui, secondo me. E in prima posizione, ragazzi, come potete immaginare, se seguite questo canale, ho voluto inserire la prima apparizione dell'Ultra Istinto. Per la prima volta, infatti, nel Torneo del Potere vediamo questa trasformazione. In realtà non è l'Ultra Istinto completo, ma è soltanto una parte, ok, di questa abilità fortissima. E avviene nel momento in cui Goku riesce a rompere il suo limite cadendo praticamente sulla sua Sfera Genkidama e affrontando appunto Jiren. È una scena per me incredibile. Cioè, come è gestita proprio il tutto a me fa veramente impazzire. Mi fa venire i brividi quasi, soprattutto quanto i compari di Jiren diventino quasi inutili, obsoleti contro Goku e come finalmente Goku riesca a colpire Jiren, riesca quasi a metterlo in difficoltà. Cosa che, attenzione, non è assolutamente banale perché fino a questo momento Jiren era praticamente il personaggio invincibile della saga che era riuscito a prendere a schiaffi in modo assolutamente tranquillo un Goku Super Saiyan Blue. E fino in quel momento lì, ragazzi, nel Torneo del Potere, Goku era riuscito a cavarsela sia nella forma base che nel suo Super Saiyan normale. Quindi, cioè, capite la differenza di potere che c'è nel Torneo del Potere quando compare Jiren. Stiamo parlando di una cosa assurda. E Goku, grazie a questa trasformazione che è incredibile, per me a livello di design è anche più bella dell'ultraistinto completo, Goku finalmente riesce a mettere un pochettino in chiaro la situazione e riesce a mettere in difficoltà Jiren, anche se dura veramente per pochissimo tempo. E detto questo, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Io vi ricordo, come sempre, di abbonarvi a questo canale se volete passare a Red Dog Gold per vedere tutti i nostri contenuti in anteprima e anche senza pubblicità. E detto questo, ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Noi ci vediamo prestissimo su questo canale. E niente, ci vediamo. Ciao a tutti, ragazzi.